Vaccini in farmacia a Cossolo, l'obiettivo è partire entro i primi di giugno in tutte le regioni. Diana Webb alvia il progetto per supportare le donne con tumore mammario. Cannabis terapeutica Tobia, necessario e urgente, renderci autonomi. Vaccino Pfizer, EMA allunga tempi di conservazione in frigo dopo scongelamento. La Valle d'Aosta ha fatto da apripista, ma a breve tutte le farmacie del territorio italiano saranno coinvolte nella campagna vaccinale anti-covid. L'obiettivo è partire entro i primi di giugno in tutte le regioni, dichiara Marco Cossolo, presidente di Federfarma nazionale a Vediamoci chiaro su TV 2000. Tra pochi giorni toccherà anche alle farmacie del Lazio, afferma Cossolo. In ogni caso tutte le regioni sono state allertate dalla struttura commissariale del generale Figliolo e tutte stanno già lavorando per partire quanto prima. Ma ascoltiamo uno straccio del suo intervento. Come sapete, come target di riferimento a noi hanno dato 18-60 anni, cioè la fascia della popolazione è sostanzialmente più sana, con meno problematiche. Se si riuscisse a partire col Johnson & Johnson, che è molto maneggevole dal punto di vista della catena del freddo, si sta pensando in farmacia di fare una sorta di vaccino aperto. Cioè io arrivo, dimostro di non essermi vaccinato, prenoto, vengo registrato su delle piattaforme che stiamo costruendo noi come Federfarma e collegandole con strutture regionali, vengo vaccinato e col Johnson & Johnson una vaccinazione sola, vengo registrato e chiuso. Il progetto di Anaweb è rivolto a tutte le donne con diagnosi di tumore al seno. Lo studio è coordinato dal Dipartimento di Ricerca dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, che da anni è impegnato nello studio di questa patologia. L'obiettivo è quello di individuare quanto corretti i stili di vita e alimentazione siano in grado di migliorare la prognosi dopo la diagnosi di tumore alla mammella. Nell'ambito del progetto di Anaweb, che ha il patrocinio di Federfarma, il farmacista può svolgere un ruolo fondamentale, invitando le pazienti con diagnosi di tumore al seno a iscriversi al portale di Anaweb. Questo progetto studio offre al farmacista una grande opportunità di rafforzare il suo ruolo di professionista della salute e di collaborare un importantissimo progetto di ricerca con l'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Le preparazioni a base di cannabis terapeutica rappresentano una terapia preziosa per molti pazienti colpiti da malattie che provocano dolori intensi. Eppure la produzione nazionale e i quantitativi importati da altri paesi non riescono a soddisfare il fabbisogno dei pazienti. A ricordarlo il segretario di Federfarma Roberto Tobia, ospite della trasmissione, mi manda Reitre. Ma ascoltiamo le sue parole. Il consumo e il fabbisogno nazionale si è moltiplicato a disvisura negli ultimi anni. Siamo passati da 40 kg nel 2013 a 1950 kg nel 2020. Una quantità importante che chiaramente non riesce a essere totalmente soddisfatta. Noi importiamo già circa 700 kg dall'Olanda, che è il paese più attento a questo tipo di problematica. E l'istituto militare ne produce 150, quindi c'è un grosso gap che chiaramente deve essere colmato. Il problema è proprio la carenza che costringe i soggetti purtroppo ammalati di malattie, di patologie importanti, che trovano sollievo dal punto di vista analgesico da questo importantissimo farmaco, di non trovare nella disponibilità delle farmacie la cannabis per uso terapeutico. Il vaccino Pfizer, una volta scongelato, potrà essere conservato in un frigorifero normale fino a un mese. L'annuncio dell'Agenzia Europea del Farmaco, il cui Comitato per i Medicinali per Uso Umano, ha raccomandato una modifica alle condizioni di conservazione approvate per il prodotto, rendendole più flessibili. Una novità che faciliterà la gestione del vaccino mRNA nei centri vaccinali di tutta l'Europa. Sottolinea l'ente regolatorio. Questa modifica estende da 5 giorni a un mese il periodo di conservazione della fiala scongelata e non aperta a 2-8 gradi le temperature di un normale frigorifero. L'edizione odierna del Telegiornale termina qui. Grazie per averci seguito. L'appuntamento è per domani. Grazie per averci seguito.